da oggi il termine ufo oggetto volante non identificato potrebbe avere una variante in info oggetto volante identificato ebbene sì quella che è sempre stata fantascienza o credenza popolare attribuita a persone suscettibili potrebbe diventare storia il tema dei dischi volanti e degli wap fenomeni aerei non identificati negli usa e ormai di rilievo mediatico a parlarne non sono solo i giornalisti alla ricerca dello scoop ma anche i dirigenti ed esperti della cia e i senatori di entrambi gli schieramenti la storia ha inizio con l'incidente di roswell del 2 luglio 1947 quando un oggetto volante non identificato precipitò il suolo e le prime notizie a circolare parlarono anche del ritrovamento di corpi alieni dopo un'inchiesta il congresso degli stati uniti ha dichiarato che i materiali recuperati erano detriti di un programma segreto del governo chiamato progetto mogul e che i corpi erano manichini antropomorfi usati nei programmi militari nonostante questo c'è chi ha sempre pensato che il governo americano non avesse detto la verità e che da quel momento sia cominciato il processo di insabbiamento delle prove il cosiddetto cover up già in passato vi furono testimonianze di avvistamenti di oggetti volanti e l'episodio più interessante è quello descritto da giuseppe flavio nel suo libro antichità giudaiche avvenuto nel 70 dopo cristo a parte gli studiosi di ufo e qualche appassionato in materia però la maggior parte della gente non ha mai dato credito a questi fenomeni qualcosa è cambiato nel settembre del 2019 quando la marina americana ha dichiarato che alcuni video sui ufo ripresi da imbarcazioni militari fossero autentici guardiamo assieme di cosa si tratta attraversi da imbarcazioni militari attraversi da imbarcazioni militari una濃uzione Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!